Quello che possiamo dire è che la misura prevede sicuramente degli adempimenti amministrativi a cui non è facile adempiere e quindi è necessario per garantire a tutti i potenziali beneficiari la possibilità di accedere alla misura, è necessario garantire un orientamento anche rispetto alla compilazione della domanda. La misura è stata pubblicizzata, quello che è importante in questa fase è aiutare le persone a capire che cosa devono fare e se possono o meno accedere, se hanno i requisiti. Un giudizio invece complessivo sulla misura? Anche per questo è ancora troppo perso dare delle valutazioni perché la legge è in corso di approvazione, sta seguendo l'iter parlamentare, noi siamo fiduciosi rispetto al fatto che alcune delle richieste che Caritas e Alleanza contro la povertà hanno fatto possano essere accolte per rendere la misura effettivamente fruibile per le persone in povertà assoluta nel nostro Paese.